Le novità legislative sugli appalti pubblici al centro del II Congresso Nazionale dell'Unione Italiana Tecnici e Enti Locali, svolto si stamattina a Montesilvano. Un incontro importante che ha visto la partecipazione di oltre 830 iscritti per approfondire la normativa approvata il 5 ottobre del 2010, che entrerà in vigore l'8 giugno prossimo. Il regolamento, teso a garantire una maggiore trasparenza del mercato e la qualità degli operatori economici che eseguono lavori pubblici nel settore degli appalti, introduce rilevanti innovazioni per questa tipologia di contratti, che per la prima volta vengono disciplinati nel loro ciclo completo, dalla programmazione e progettazione alla fase dell'affidamento, a quella dell'esecuzione e del collaudo, compresa la disciplina degli strumenti di risoluzione di eventuali liti nella fase dell'esecuzione. Un'altra importante novità riguarda l'entrata in vigore di alcuni nuovi istituti, questo uno dei punti più importanti nell'incontro di oggi. I tecnici iscritti all'Unitel hanno potuto approfondire il contenuto della normativa confrontandosi sugli errori da evitare e gli accorgimenti da adottare per garantire la piena correttezza e la conformità delle procedure di appalto alle nuove disposizioni normative.